Il maxi appalto per la statale 275 rischia di saltare dopo quanto rilevato dall'anticorruzione. Il destino della maglia Leuca sembra ancora una volta appeso ad un filo dopo anni di attese, ricorsi, inchieste e contenziosi. E adesso una nuova pesante ombra si allunga sull'appalto milionario per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della statale. L'autorità nazionale anticorruzione sta facendo emergere nuove nubi sul futuro dell'opera. Dalla diffusione di stralci di documenti emergerebbe che le polizze fideiussorie depositate dall'associazione temporanea formata da Matarrese e Coedisal per l'aggiudicazione dell'appalti sarebbero false. È stata la direzione distrettuale antimafia di Brescia ad accorgersene e ad accertare la vera natura di quelle polizze nell'ambito di un'inchiesta più ampia che porterebbe ad una cabina di regia internazionale. Innanzitutto sia la prima che la seconda fideiussione da circa 33 milioni di euro sarebbero state effettivamente rilasciate da due compagnie inglesi che hanno cessato di emettere polizze nel 2008 e nel 2010. A questo punto si aggiungerebbero plurime illegittimità che riguarderebbero tra l'altro la nomina della commissione di gara, alcuni elementi tecnici propri del bando rispetto al progetto. Si ritiene che il comportamento dell'aggiudicataria Ati Matarrese SRL, scrive l'ANAC, è stato contrario ai principi di buona fede, non essendo stata prodotta la documentazione indispensabile per l'effettiva sottoscrizione del contratto e anzi essendo essa astrattamente idonea ad ingannare l'amministrazione circa l'effettiva stipulazione della polizia assicurativa. Le imprese coinvolte, Matarrese e Coedisal, attraverso l'avvocato Pietro Quinto, si dichiarano parte lesa e si dicono pronte a sottoscrivere in qualsiasi momento la polizia necessaria per l'aggiudicazione dell'appalto. In ogni caso si tratta di polizze richieste e pagate ad un broker, irregolarità venute a galla dopo la stipula, quando sono emersi fatti ignoti a tutti. Sulla vicenda interviene il consigliere regionale Sergio Blasi che spiega come dalle carte dell'autorità anticorruzione emerga con chiarezza come tutto il procedimento dalla progettazione all'assegnazione dell'appalto sia stato viziato da inadempienze, illegittimità e anche da silenzi. Silenzi anche da parte del governo regionale che in questi anni avrebbe dovuto essere a conoscenza delle forzature in quanto cofinanziatore e dal quale invece non sono arrivati né rilievi né perplessità. Anche su questi silenzi del passato è bene che Emiliano faccia chiarezza. All'indomani spiega Blasi di questa ennesima pagina di gestione malata dei soldi dei cittadini, di questa cartolina di un sud irriformabile nel quale la realizzazione di un'infrastruttura importante tende a svolgere più la funzione di mangiatoia che di servizio dell'interesse pubblico. Torno a chiedere che quel progetto venga ritirato e annullato e che si avvii con urgenza un nuovo progetto di strada a quattro corsie fino a Montesano con una messa in sicurezza compatibile con il rispetto del sud Salento fino all'Euca, ma questa volta sia la sicurezza stradale il faro della progettazione e non gli appetiti di una classe dirigente a dir poco approssimativa. Ad oggi sono più di 1700 le firme raccolte a meno di un mese e mezzo dall'avvio della campagna a sostegno del referendum propositivo che vuole estendere a tutte le 24 ore di tutti i giorni della settimana la zona a traffico limitato nel centro storico di Lecce. È un risultato che accresce il nostro entusiasmo, affermano dal comitato che riunisce tutte le associazioni promotrici. Ci avevamo visto giusto, i cittadini leccesi vogliono vivere meglio la loro città, che deve stare al passo con le più belle città d'arte come Siena, Lucca, Mantova, Ferrara, Padova e tante altre. Ma non dobbiamo abbassare la guardia. Le 3.000 firme che consentiranno di indire il referendum propositivo sono tantissime per una città come Lecce. Rappresentano ben il 6-7% dell'elettorato attivo. Invitiamo perciò i cittadini leccesi, che ancora non hanno firmato, a recarsi ai banchetti per la raccolta. I promotori, che ieri sera hanno tenuto la consueta riunione settimanale per fare il punto della situazione e programmare le azioni successive, saranno sabato 21 maggio, al mattino dalle 10 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 18 alle 20.30, in piazzetta Castromediano, alle spalle del Palazzo del Comune, e domenica 22 maggio in piazza Santoronzo, negli stessi orari. Martedì 24 maggio è invece programmata una conferenza stampa, oltre che per fare il punto della situazione referendaria, anche per lanciare un progetto per la mobilità a Lecce. La promozione della salute in quattro tappe è la campagna lanciata dall'Associazione del Polo Oncologico di Lecce, Chiave d'Argento. Un percorso che coinvolge cittadini, medici e istituzioni, organizzato dall'attivismo dell'oncologa Silvana Leo, presidente dell'Associazione Chiave d'Argento Onlus. Chiare le finalità, informare su uno stile di vita sano, sulla dieta mediterranea, sui benefici dell'attività fisica e sulla prevenzione dei rischi legati al fumo. Si comincia domenica 22 maggio, con la biciclettata della salute nel centro storico di Lecce. Martedì 31 maggio, concerto di solidarietà presso il Chiostro dei Celestini, con l'orchestra e il coro composto da 130 ragazzi della scuola secondaria di primo grado a Scanio Grandi di Lecce. Sabato 4 e domenica 5 giugno, in piazza Santo Ronso, la manifestazione Esci dal tunnel, non bruciarti il futuro, prima tappa della campagna nazionale di prevenzione e informazione sui rischi legati al fumo e di sensibilizzazione sul tumore del polmone. Ai partecipanti sarà eseguito un test spirometrico gratuito. Venerdì 15 luglio, infine, nell'Anfiteatro Romano, la rappresentazione della commedia in due atti Occhio e famiglia, di William Fiorentino, con la compagnia teatrale Mario Perrotta. Domenica 22 maggio, ritorna Lecce e Cortili Aperti, l'evento che offre l'opportunità a cittadini e turisti di entrare e visitare gli androni e i cortili interni ai numerosi palazzi nobiliari del centro storico cittadino. L'iniziativa, giunta alla 22esima edizione, riscuote un interesse sempre crescente, attirando ogni anno decine di migliaia di visitatori appassionati. L'evento organizzato dall'Associazione di More Storiche Italiane è realizzato in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Lecce. È un appuntamento atteso che fonde perfettamente in sé la valenza culturale a quella turistica, distinguendosi al tempo stesso per il pregio del contenuto e l'alto profilo dell'organizzazione. La sistematica realizzazione in città di questo evento garantisce il consolidamento di Lecce all'interno di un circuito di eccellenza del comparto turistico. Numerose le iniziative collaterali. Grazie al primo concorso fotografico, giovani studenti leccesi potranno cimentarsi in una personale interpretazione dei palazzi leccesi. Quest'anno torneranno ad abbracciare i visitatori Palazzo Morisco d'Arpe e Palazzo Guarini, mentre apriranno le loro porte per la prima volta Palazzo Maremonti e il Palazzo del Seminario. Nella suggestiva cornice dei cortili si avrà la possibilità di assistere a spettacoli teatrali e performance musicali e poi spazio alle arti visive, installazioni e reading letterari. La collaborazione con le scuole leccesi continuerà a dare i suoi frutti con il coinvolgimento degli allievi di vari istituti della città. Il centro storico, ha sottolineato il sindaco Perrone, ha vissuto negli ultimi anni un binomio perfetto tra pubblico e privato grazie al posizionamento del vecchio basolato e al restauro delle antiche facciate dei palazzi nobiliari e non solo. Ebbene, grazie ai cortili aperti, riusciamo a rendere fruibile una parte significativa del patrimonio storico e architettonico leccese. Inoltre, la sagacia e l'intelligenza degli organizzatori hanno consentito di realizzare attività collaterali per vivere questa giornata nel migliore dei modi. Ecco perché domenica assisteremo ad una sorta di festival della bellezza tra i palazzi di Lecce. E' uno degli eventi più importanti della nostra città, ha giunto l'assessore Coclite, e ogni anno riesce ad arricchirsi con nuovi elementi. Anche in quest'edizione attendiamo in città decine di migliaia di persone pronte a scoprire i nostri splendidi androni, giardini e palazzi antichi. Si chiama L'Esercito Combatte, è un progetto a carattere nazionale dell'esercito italiano in collaborazione con il MIUR, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e che rientra nell'ambito del centenario della Grande Guerra. L'iniziativa, presentata in conferenza stampa a Palazzo Garafa dal sindaco di Lecce Paolo Perrone, assieme al caporeparto affari generali dello Stato Maggiore dell'Esercito Generale di Divisione Giuseppe Nicola Tota, prevede una serie di eventi volti a diffondere la cultura e la conoscenza storica della Prima Guerra Mondiale, per ricordare il processo identitario e il ruolo svolto dall'Esercito nella creazione dello spirito di unità nazionale, mantenendo al contempo vivo il ricordo e la commemorazione di tutti i caduti. L'attività prenderà il via a Lecce il prossimo 21 maggio da Piazza Santo Ronzo, per sottolineare, come ha detto il generale Tota, il forte legame tra l'Esercito e la Puglia, con particolare riferimento al capoluogo salentino, anche alla luce del contributo che, in termini di vite umane, tutto il Meridione e la Puglia in particolare hanno dato alla Prima Guerra Mondiale. Tra l'altro la città di Lecce ha ospitato la prima Accademia Militare dell'Occidente. A unirsi al pensiero del generale Tota, il sindaco Perrone, che ha ringraziato l'Esercito per aver scelto il capoluogo della Regione Puglia per questa iniziativa, dedicando un pensiero particolare al sacrificio dei salentini e pugliesi tutti durante il primo conflitto mondiale. Ancora oggi moltissimi ragazzi della nostra Regione dedicano la loro vita all'Esercito e questo progetto è un'occasione importante per riflettere e ricordare quei tanti piccoli e grandi gesti di eroismo dei nostri concittadini che hanno perso la vita per la patria. Il progetto, che parte proprio da Lecce il 21 maggio e toccherà Padova e i principali sacrari del nord-est dell'Italia fino al 25 maggio, prevede diverse iniziative su tutto il territorio nazionale, tra cui mostre, convegni, esibizioni di bande e visite di studenti provenienti da tutta Italia verso i luoghi del conflitto. E sempre più febbre giallorossa. La prevendita per la partita di domenica contro il Foggia, valevole per l'andata della semifinale dei play-off di Lega Pro, va a gonfia vele. Alla chiusura della seconda giornata i tagliandi emessi sono stati più di 11.000. Tutto lascia presupporre che sarà battuto il record di presenze stagionali. Proprio alla gara di campionato contro la squadra di De Zerbi, disputata a febbraio, risale il record stagionale di incasso con oltre 13.000 spettatori, un dato che comunque sarà ampiamente superato fino a sabato sera, quando terminerà definitivamente la vendita dei biglietti. Con la spinta decisiva del pubblico di casa, Papini e compagni sperano di dedicare una bella vittoria ai propri tifosi per poi giocarsi la qualificazione nella gara di ritorno domenica prossima a Foggia. Tutti pronti a scendere nella Tana dei Lupi, un brand quanto mai appropriato che campeggia anche sulle t-shirt che l'Unione Sportiva Lecce ha preparato come anticipo di una serie di prodotti di merchandising che verrà lanciata all'inizio della prossima stagione agonistica. Il vicepresidente Corrado Liguori, pur riconoscendo il valore dei rossoneri, ha sottolineato che il Lecce rispetta tutti ma non teme nessuno. L'obiettivo della società è quello di riportare i colori giallorossi nel calcio che conta nel giro di 4 o 5 anni e già in questo campionato si sono ottenuti risultati importanti. Per la forza dei suoi interpreti e per la qualità del gioco espresso, i Satanelli hanno dimostrato di essere una grande squadra, ma i nostri ragazzi, aggiunge Liguori, non sono da meno. Dovranno dare il tutto per tutto, commettendo pochissimi errori, sfruttando al massimo le occasioni da rete ed anche il fattore campo. Ieri pomeriggio Capitan Papini e compagna hanno disputato una partitella in famiglia sul manto erboso del centro sportivo di Martignano, alla quale ha partecipato anche il centrocampista unghierese Veccei, che è tornato quindi a lavorare con i compagni dopo i problemi fisici accusati nei giorni scorsi. Hanno lavorato a parte invece Gianluca Freddi e Alessandro Camisa, mentre il primo è out per questa stagione, il secondo invece potrebbe rientrare presto in gruppo. Ha saltato la partitella, ma solo a scopo precauzionale, il bomber Davide Moscardelli, che si è allenato a parte e sarà regolarmente a disposizione di Mister Braglia per il derby contro i Cugini Rossoneri. Per oggi il tecnico toscano ha fissato una seduta d'allenamento pomeridiana a porte chiuse a Martignano. Al termine i giallorossi andranno in ritiro in attesa di effettuare domattina la rifinitura prima del match di domenica che, come è noto, è stato anticipato alle ore 18.